scusate ragazzi sto aggiornando considerate che stanno una zero per fanno in questo momento bella ragazzi comincia amari ma sei stato di stato l'hai sentito l'hai sentito di abissato tutti i ruoli ma qua sono già uno a zero per part per pante per pante si scusateci ragazzi questo game iniziano a metà ma questi scemi avevano iniziato senza che iniziassimo niente e quindi ora vi stiamo mettendo ok update finalmente sistemata la grafica ragazze ragazzi siamo sul calos per il game 2 preso da a livello per forza buonissime già di vantaggio per fango si è buonissimo lo so ok qua vivano percentuali ma uno stop di un'altra più differenza ottimo fare il boomerang evita tutte cose pante riesce uscirne si becca un calcetto però niente di pre pante ricordiamo che conosce il personaggio conosce gli angeli quindi sa a che lo è lui si è qua si punisce la schifata è stato infatti dice io mi faccio un bellissimo show you can pressa lo scudo focus un po un po di scanto un po un pò in cui nessuna panis troppo grave ancora panna nella live il non bica ma mia molto molto Non è Max Rage Però Rage è bella grossa Pensavo sia 140 E va bene Vuole andare a mangiare Dice ci sbrigiamo Vuole andare a mangiare Vuole mangiarsi pure questo torneo Accidenti Allora ragazzi so che un caster non dovrebbe avere questi bias Ma io ti coverpungo Il comeback arc sarebbe troppo incredibile Voglio poter vincere questo torneo Il problema è che porca ogni volta Non riesce a vincere un torneo Anche quando riesce a battere forze russie Un po' se lo merita porca Però io voglio vedere il vincere padre Però se lo merita Sicuramente vogliamo vedere Come non succedeva tanto tempo tra tutte e due Porca statement Dai se lo merita questo main feed Però chissà cosa succederà Ancora c'è un pochettino a giocare Tra l'altro non c'è solo Pando Ancora neanche questo match è finito Poi chi vince va contro Pepino Chi vince va contro Pepino E signor Layla chi ha perso? Da Pando Il winner E il loser forse da Pando Ah da Ali Sì sì Ah no scusa E Pando che ha perso Da signor Layla Mi sa che contro Min Min I tuoi personaggi Se l'avete non prodotto Però qua lo deve salvare Però no ancora Eh vivo è vivo Ha 170 ma è vivo Ha un buon rientro E qua no Ha un buon rientro come si chiama Young Link Young Link no Tanti Sale di meno di più Ah ok È la stessa cosa pure Young Link Funziona Allora C'è il motivo Quella B Il problema è che ha un range un po' ridicolo E soprattutto un Xbox piccolissima Quindi è bene anche facendo Sato abbiamo visto Panne Che lo contesta spessissimo Col failure Col down air Qua invece Ancora Panne È stato addoppiato di nuovo Alivell si porta un'intera Stock di vantaggio E prende La percentuali Bassissima 110 non è in bassissima Però dopo lì C'era Dopo la combo Eh sì 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 Dopo la bella combina A 35% Comunque Qua Panne Qua Alivell le rischia Un subito stage Ma ci sta Deve prendere questa killer Deve prendere ora Se vuole continuare in questo torneo Qua Panne sta veramente Stroncando le speranze Di questo giocatore Mamma mia Pazzo Completamente Voleva fare football Non ha toccato una tastiera È un fistullatore Panne Assolutamente Sì infatti Non ha toccato niente No È sbaglia qua Non so se ha fatto un 6b Oppure ha fatto una command Che gli ha Secondo me Panne Che leo sarebbe La split la stock È vero È vero È vero È vero È vero Quando Panne è in forma Sì Quando Panne è in forma Sì assolutamente Ricordiamo Panne Non lo so Che achievement Ha Panne come Non ha risolto in italiano In realtà Credo Non vincite Non vittoria almeno Vincite Va bene Qualcuna Sì Però Cioè Il match up Ti metti poco Ha dei risolto Ovviamente Ha fatto bene Se non sbaglio Al Luca Comics E non mi ricordo Anche L'ottipì E qua Dimostra Dimostra Che Nonostante Tutti questi mesi Panne è pronto Si porta in E non mi ricordo